Siamo con mister Pasquale Barba, questa volta è andata bene qui allo Sporting Center, lo scorso anno un po' o meno, vi siete rifatti con gli interessi? Sicuramente vincere qua a casa della Vigor è al di là del risultato che porta i tre punti, è proprio bello per quello che comunque sono loro, per quello che è la società, per quello che hanno vinto, contenti dai, va bene. Silva nella ripresa con carattere ha risolto il match, dopo aver sbagliato il calcio di Vigor? I Vigor sbagliano chi calcia, il Vigor è calciato così così, bravo il portiere, poi ha avuto la personalità, ma lui ce l'ha comunque a livello caratteriale, sono contento che alla fine se doveva fare il gol 1 l'ha fatto proprio lui. Ora che siete al secondo posto cambia qualcosa rispetto a quanto ce l'avamo detto in settimana con il football o è più o meno sempre lo stesso discorso solo che siete secondi? Cambia relativamente perché i punti sono comunque sempre la margine dei punti minimo, la notizia fra virgolette non me ne voglia il mister Angelo Grande è che comunque sia la Lodigiani non ha vinto, perché il football abbia qualche cosina in più è in dubbio. La Vigor è comunque una grossa squadra, Lodigiani stesso, quindi trovarne una che si stacca sarebbe la cosa ideale, per adesso qualche punto di vantaggio di Lodigiani ce l'abbiamo, ce lo teniamo, stretto stretto, poi campionato siamo alla decima, mancano 20 partite, se fosse il giro di ritorno sarei un po' più tranquillo. È anche vero che le prossime 5 però per voi non saranno scontri diretti, mentre ce ne saranno altri da qualche altra parte? Sì sì sì, questo qua ce l'abbiamo detto anche in settimana, comunque loro si devono affrontare, gli scontri però vietala di cose, uno dei due, magari tutti e due perdono punti, ma le partite comunque tutte quante valgono tre punti, quindi tre punti presi qua allo Sporting valgono i tre punti del San Donato o di qualsiasi altra squadra, sempre tre punti sono, quindi presi qua e persi in un'altra partita sarebbe una beffa non indifferente. Grazie a tutti.